Io sono Alan De Luca e sono un ragazzo degli anni 50, nasco come DJ, divento animatore turistico, poi faccio teatro, cabaret, televisioni un po' nazionali, Maurizio Costanzo Show e poi arrivo a Tele Garibaldi, sto sintetizzando perché... Arrivo a Tele Garibaldi con il mio compagno Lino D'Angio e creiamo questo fenomeno straordinario di teatro e di televisione che è appunto questo programma televisivo che dura per qualche anno e che ancora oggi ha lasciato un sé. La mia passione fondamentale sarà sempre quella della musica, infatti io ho cominciato come DJ, diversi anni come DJ e ho vinto anche due concorsi nazionali con dei giornali dell'epoca, con My Express e con Novella 2000, due settimanali di gossip dell'epoca. Poi a un certo punto ho detto, però la musica mi piace tanto, però voglio un po' fare anche altre cose e ho cominciato a lavorare nei villaggi di vacanze. Lì mi sono formato perché nei villaggi bisogna fare degli spettacoli che devi cambiare continuamente, che devi fare in breve tempo e poi là c'è bisogno di recitare, organizzare, cantare, insomma. Abbiamo imparato a fare un po' di questo, un po' di quello, non è una mezza schifezza una cosa, non è una mezza schifezza un'altra cosa, insomma. Alla fine, insomma, è una cosa più solo. Poi dopo alcuni anni vissuti a Roma e dopo che avevo fatto alcuni spettacoli a Roma, con delle canzoncine in stile Tamarro, con personaggi anche particolari, facevo il caschetto, ma avevo un caschetto biondo, eronizzavo, sogno d'angelo, tornai e proposi uno spettacolo, un programma televisivo, avevo intenzione di fare una trasmissione tipo tra la striscia della notizia e mai dire gol. Individuai lì, non d'angelo, la persona giusta per formare una coppia. Lui accettò con molto piacere, io con molto piacere poi ho capito di aver fatto un'ottima scelta e abbiamo iniziato prima con Fischia la notizia, un programma si chiama Fischia la notizia, canale 21, televisione napoletana, e poi ci hanno chiamato in questa televisione, canale 9, il direttore ci propose questo nome, Tele Garibaldi, e cominciò l'epoperi delle Garibaldi, era un periodo in cui eravamo un po' defilati artisticamente, improvvisamente troviamo il primo articolo, risse ai bottiglini per De Luca e D'Angelo, non ci sembrava vero, ci sono stati 100.000 persone in primo anno in teatro, 250.000 il secondo, ogni sera 100 persone fuori a vederci, ad aspettarci, è stata una trasmissione straordinaria, un periodo indimenticabile. Il pubblico napoletano è molto diffidente con gli attori di altre regioni, infatti a Napoli non vengono tutti, perché noi siamo un po' campanilisti in questo, però con il pubblico napoletano c'è un rapporto ovviamente, non dico odio amore, ma è amore amore, perché anche quando gli spettacoli sono meno efficaci, insomma noi riusciamo sempre ad avere quel feeling, quel rapporto che ci dà poi forza per andare avanti, è un po' la nostra linfavità del pubblico napoletano. Negli ultimi anni c'è stata un'evoluzione se vogliamo della comicità che però, come dire, getta un po' tutta la costruzione, mette un po' tutta la costruzione da parte per arrivare direttamente alla battuta. In realtà questi tempi velocissimi li aveva già Totò quando facevo i film eccetera. Poi il teatro, la televisione, la comicità nazionale si è un po' rallentata, ma non per questo non è poi rimasta nei nostri cuori, basta pensare alla comicità di Coglier Renato, di Walter Chiari, di Vallo Villaggio. Oggi è una comicità diversa, però credo che ci sia anche un po' un ritorno dove avviene una fusione tra ritmi e tempi moderni, contemporanei, con contenuti e linguaggi anche di qualche tempo fa. Oggi è così, credo, ed è questa anche un po' la direzione futura. La direzione futura credo sia anche, la strada nuova sia anche quella proprio di fondare un linguaggio che sia sì divertente, ma che faccia anche uscire fuori la gente dal teatro con qualcosa di diverso, con qualcosa che magari non sapeva, che non conosceva. Io sono un po' anomalo in questo, nel senso che sono napoletano in tante cose, ma mi considero un po' cittadino del mondo. Vivo a Napoli, ma vivo al centro storico di Napoli. Però il mio grande arammarico è quello di non aver viaggiato ancora abbastanza. Vivere a Napoli, per chi è napoletano, ed è artista, ed è attore, ed è più o meno fortunato come me, nel senso che riesce almeno a vivere dignitosamente, non oltre, perché dico appena dignitosamente come me, già è troppo ed è comunque bello, perché tu fai un lavoro, fai un mestiere, col quale cambi, questo è importante. Quindi per me vivere a Napoli è tutto, non mi potrei allontanare tanto, però ogni tanto bisogna anche andare un po' altru, perché così si ritorna a carica e col desiderio di rivedere e ritornare un'altra volta sui nostri luoghi nativi.